lei si sfoga sulla chat non mi sfoga sulla chat se tu offendi se tu offendi è non male è non male vada a controllare la mia sub perchè io ho pagato io ho pagato per lei io ho pagato me l'ho usato per lei evita di imitare Mr. Flame che non ci riesce non sta imitando nessuno non sta imitando quello del meme io ho pagato vada a controllare io ho pagato io ho pagato lei deve rispettare la chat perchè noi le diamo il pane ci insulta ha bannato una persona perchè le ha chiesto se ha il covid che bann è per aver chiesto no ma un'altra è stata fantastica c'è il bann di Don Vito su una cosa bellissima che è? un tizio ha scritto mi ha bannato dalla chat perchè ho nominato Nice pensavo fosse un altro streamer ha detto tipo top Nice una cosa del genere bellissima tutti sanno che è un rapper bellissimo e vabbè Don Vito Don Vito si però non mi piace ascolta I'm stanco stia zitto e mi ascolti perchè devi far parlare il tuo Dio io sono un signore il tuo Dio e la faccio parlare e ascolto pure o se non sarò costretto a mutarla il fatto è che lui ha detto la prima volta ma Vito hai covid io ho detto no poi a un certo punto questo ebete ha avuto abbillante idea eh Don Vito ha il covid non ha il covid nel senso con un punto di domanda però con un punto scomativo che ha detto Don Vito ha il covid per significare che non ce l'ho a parte che questo è diffamazione perché qualcuno potrebbe iniziare a fare stories forse è diffamazione è la febbre si si è diffamazione non è diffamazione non balle lo sa l'avvocato Don Vito no allora pure io allora pure io pure io posso dire pure io posso dire hai la DS no no Vito no vabbè ma dai ma non è un po Vito io mi offenderei e lo bannerei non è diffamatoria come cosa a me mi dà fastidio sono due cose diverse a me mi dà fastidio ma Vito non c'è scritto nelle regole ah giustamente giustamente figli di porco di Dio maledetto no bastardo infame no la cattiva credo che dobbiamo fare un passo indietro appunto io direi non è la prima cosa molto pesante perché da questo da questo video in poi penso che uno statement ufficiale del Cebro Podcast sia non inviteremo più Don Vito mai proprio nella vita addirittura mai più bannato addirittura bandito non inviteremo più Don Vito bandito dai canali Rai no invito a Don Vito beh io farei un po' un linchatto bandire Don Vito dal Cerbero Universe ok mi confronto in diretta mi confronto in diretta però io tolgo lei perché è solo solo un ebete alla volta no dai ma poi pure da ban cioè non si sta rigolando ban a questa persona che si anzi questo qua anzi segnalalo e segnalalo a Twitch per piacere ha vinto il sì col 59% 1871 voti contro il no 41% 1281 possiamo dare l'annuncio ufficiale Don Vito mandiamo pure un consiglio da oggi Don Vito Don Vito è ufficialmente ufficialmente bandito dal Cerbero Universe è pesante senta le faccio una domanda ma le sub che gli hanno regalato i lecchini del Cerbero sono già scadute? mi sa che tra un po' scadano mi sa che tra un po' quando scadranno vedrà come tornerà a fare lecchino in chat a tutti gli utenti che sta bannando vedrà quando rimarrà con 5 sal ma succhiamo il cazzo il suonatore il suonatore sul mio canale faccio quel cazzo che voglio io se non si educa se non si vi ha dissato nella live di Buga perché io perché i ThunderCherber non hanno i gameplay proviamo a fare il gameplay il Cerbero avranno 4-500 spettatori quando hanno fatto lo sponsor uno che ha il gameplay si guarda stiamo chiamando Don Vito che dovrà difendersi dall'essere stato bandito dal Cerbero Podcast poi Vito c'hai deluso metti la web mi piace che mo mi incazio come una bestia ora perché? fate vedere l'otto scuro di me ora intanto stai calmo stai calmo stai calmo sì perché se no è casino manteniamo la calma e parliamo sui film io sono più accolto sui videogiochi ed è fattuale Don Vito ma io sono sicuro che ti rompo il culo a qualsiasi gioco beh non credo comunque a parte a seguito te apro cioè proprio senza senza che nemmeno entri in partita già parti che hai perso te lo dico io fidate beh te ci hai giocato ma guarda che ma che è che non c'ha non sa nemmeno cos'è sai che chi l'ha creato dai comunque ascoltate l'ha creato Akira Toriyama buffoncello vabbè allora comunque me ne vado o vuoi fai mi parlare no no parla parla vai Don Vito sono cercato di sdrammatizzare Vito vai Don Vito ma come facciamo non capisco nulla sdrammatizzare Vito Vito ti posso dire che hai solo un minuto per rispondere vai no Vito allora Vito allora no però aspetta un attimo Vito perdonami io vorrei farti parlare però qui non posso dirti che hai solo un minuto per rispondere no vabbè no un minuto però aspetta questa è una faccenda molto seria allora Vito c'è solo 50 secondi per rispondere veramente qua il tempo il tempo sta passando qua allora non so 40 secondi per rispondere io vorrei farti parlare però se urli dovresti parlare Vito se urli e basta però diventa sgradevole Vito la cosa sta diventando troppo sgradevole io ti invito a non urlare riesci a parlare o non urlare ti facciamo parlare solo se non urli vai urli perché stai urlando solo se non urli facciamo parlare manca 30 secondi se vuoi ti facciamo parlare basta ragazzi non si capisce in cazzo prego allora mo abbiamo scherzato porca di quella madonna troia inesistente oh state madonna santa mi incazzo seriamente allora Vito no vai ascoltatemi come zitto a me no Vito non mi trattare io sa cosa se non mi fai parlare voi siete dei non dico dei bulletti ma guardi no no si se fate così si ha ragione Luke in questo caso come Luke chi no ascoltate scusate ma ha ragione che ha detto Luke che ha detto Luke che sei dei bulletti comunque stai utilizzando una tecnica abbastanza scuola ridi tutubi ridi tutubi a questo modo a questo modo ti dispiacerà quando non potrai mai più vedermi ascoltatemi non in quals senso non pensate a male perché non ci perdo nulla ad entrare in un altro team tranquillamente ad avere più visibilità ok ma questa è una cosa gravissima in quale team andresti ma come Vito questa è con la visibilità ci rinleghi così dai mates questa è una cosa grave pensavo fossimo amici questo team di Zebbo o di Zebbo 89 sicuramente sicuramente ti prenderebbe quando hanno detto Nietzsche perché l'hai bannato perché mi dà fastidio frase anche senza senso che non so il significato quindi se non so il significato ed è una cosa offensiva ho capito ma lui in live sei ignorante guarda che lui in live poi l'ha detto anche che non ha capito per quale motivo l'hai fatto ma Nietzsche è un filosofo è un filosofo Nietzsche non puoi bannare uno perché per la tua ignoranza è in filosofia perdonami vabbè non mi interessa comunque ignorante dice qualcun altro se non sai che Nietzsche è un'ignoranza in ambito filosofico perdonami segui più Rick Dufese questa cosa ti costerà a cana nel senso non comunque con te e tu tubi non ti voglio più bene così no 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 ma siamo affasciotti sarò serio dai sì serio è una buona volta siamo seri io non farò non dirò più queste cose non offenderò più la gente che mi dà fastidio bla 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 eccetera eccetera ok ma non è che lo prometti a noi tu puoi fare quello che vuoi sì io lo prometto a tutto la chat intera però la chat intera deve promettere una cosa e spero la prometta il per dire quando sono andato a ospedale gli altri sono stati sempre tutti educati beh Vito ma questa è la è la nostra chat non è la tua noi stiamo parlando del tuo canale ma tu sei libero di fare quello che vuoi nel tuo canale non è che lavori per noi ma io mi voglio pure prendere conto a noi i nostri sono solo le nostre idee i nostri consigli non divento cattivo che offendo ma banno soltanto senza l'offesa perché poi mi sembra pure ingiusto che mi cioè offendo che ho bannato gli basta soltanto i ban per soffrire tutte le pene perché non potrà più rivedermi e il fatto è che io in un mese prometto di cambiare e tutte e tre venite a ospitarmi il canale però bravo Vito bravo lo facciamo come cosa io voglio dirlo se Don Vito può cambiare tutto il mondo può cambiare tutto il mondo grazie Vito ascoltate in quella live ero incazzato per svariate cose perché la gente in privato mi offendeva e tante altre cose allora voglio premettere che ci sarà un video critica anche agli amici cioè gli amici almeno pensavo che fossero amici visto che non mi hanno chiamato e non abbiamo parlato insieme il fatto è che in quel video loro non hanno contestualizzato hanno visto il video ah Don Vito è così Don Vito è con là è sbagliato hanno sbagliato ma parecchio e non di poco qua stiamo parlando di tanto ma di tantissimo che hanno sbagliato in questo video lui dice anche me lo so perso mi sa che lo diceva prima ma l'abbiamo vissuto vabbè ha detto che se non parliamo di lui facciamo mille duemila spettatori ok Riccardo e quando abbiamo parlato di lui ne abbiamo fatti ottomila guarda a me dispiace dirlo ma al di là della simpatia che c'è per Don Vito al di là del fatto che venendo da noi porti content lui poi ne ha giustamente un ritorno purtroppo ho sempre visto e vedo una vena di come posso dirlo in parole non offensive l'ha detto all'inizio ha detto all'inizio arampicamento no no non si dice non si dice volontario portato però a volte in maniera furba tipo no non se ne accorge nessuno quando in realtà è molto palese però ci sta ci sta alla fine che comunque è sempre un dare avere quindi nessuno ne risente però a tratti può darmi fastidio per quale motivo fai il depensante cioè io ho fatto il green screen per il mio pubblico se l'ho usato o non l'ho usato per te vuoi usare tu il mio green screen usalo per fare cose utili non per fare i meme che mi impicciolisci mi metti le zone di qua dire la gente ma stava a ride quando lo stavamo a fa cioè se ti ho offeso mi dispiace ma pensavo che ci stessimo divertendo tutti a paura di me con Mr. Frame quello che fa se volete mi devi pagare il green screen l'ho pagato 90 euro Mr. Frame dammi indietro 90 euro cioè dammi 90 euro e potrei farmi tutte le cose che vuoi quindi ovviamente col green screen altrimenti ti stai fermo e mi tieni come ospite punto andiamo avanti il fatto è che mi sono incazzato io spero mi rinviteranno e parliamo di questa cosa io e Cerbero niente mi sono incazzato non accadrà mai faremo pace però io voglio te scusi io ho una filosofia di vita ok l'applico sempre quindi non è che sto a fare paraculo io sono sempre pronto al perdono sempre non metto mai una pietra sopra le persone Colin Chat live di stasera Don Vito in o out è brutto è brutto capito un po' brutto greve ragazzi ma c'è il vostro parere è importante per noi e verrà rispettato Chat ha deciso out quindi mi attengo al volere della chat perché non ritengo nemmeno giusto quello che hanno fatto nei miei confronti soprattutto abbiamo creato un mostro voi non avete carato un cazzo io sto da youtube ancora prima di youtube fa cacare e miss flame quindi sono da quasi sei anni quasi sette mi devo fare cacare se non sbaglio ho 4-5 anni pure miss flame miss e mare è andato dopo e io faccio twitch dal 2000 all'inizio del 2018 quindi ancora prima del cervello allora il fatto è tre spettatori è uno picco massimo e tre spettatori questa è un'argomentazione validissima e poi per fortuna meno male un moderatore che l'ha capito che se non fai il suo lavoro verrà prima tutto il moderatore poi verrà bannato perché se tu non fai il tuo lavoro se devi essere moderatore quando ti dico banna quella persona io vorrei dare un consiglio a Don Vito oggi mi hanno mandato pure una clip dove lui si è messa tipo alla gente che aveva bannato o mi fate il sub o vi banno oppure o mi fate il sub o non vi sbanno io vorrei dire a Don Vito che queste qua sono delle tecniche che secondo me non dovrebbe usare ma sono bannabili sia per questo sia per il livello morale insomma cioè non a me mi duele il cuore perché ho visto una persona che è imboccata qua da noi in un modo e poi si è trasformata in un altro quindi io non vorrei che cade nei stessi errori che lo hanno formato non è normale che banno gente sul mio canale non si può stannominare altri stream per non avere problemi che già ma è il primo che si spammano in ogni live quello ti ha nominato no ma non è vero questa persona che poi da già che qua poi ci sta prendendo in giro ma ci sta più a per culo io questo l'ho fatto vede pure oggi in live però mi sembra mi sembra faccia vedere le faccia vedere è pubblico trovato comunque effettivamente ti converrebbe fare i boss secondari dai non rompete il cazzo io me lo voglio liberare subito non voglio averne più a che fare eh ho capito Vito ma se non sei preparato io vi imprendo ben cacca se vi stacco il collo e vi cacca in gola greve dai di che stiamo a parlare su vabbè è abituato a quel tipo di di comunicazione nelle chat di Call of Duty dove ti insulti la madre di Continuo però però non dicesse però che non lo fallo a me spiace perché ti ripeto lo so che è un bravissimo ragazzo però cosa vuol dire grazie Luca per gli abbonamenti regalati cosa vuol dire non potete fare una live noi abbiamo parlato di alcuni episodi che non ci sono piaciuti di un personaggio che comunque costantemente portiamo in trasmissione quindi abbiamo anche una responsabilità e poi tra l'altro è entrato in quella live Vito quindi non è che ma poi lui parla di noi costantemente ci mancherebbe altro ha detto che non siamo persone creative ha detto che siamo dei cretini è fattuale che Don Vito non è in grado ha detto che dobbiamo il suo successo a lui cioè ha detto senza di me non fanno neanche grande Luca Lauro neanche mille spettatori c'è cazzate non è in sé io penso che sia chiaro che Don Vito non è in grado no penso che sia come minimo fattuale io spero solamente che riuscirà a far forza di queste cose e che non continui a darati dal suo non è più lui una volta umile tranquillo ci sembrava anche giusto adesso si è fatto corrompere dal presunto potere perché Don Vito purtroppo ancora non ha un potere ma da quel poco che ha avuto parliamoci chiaro perché è fattuale non me ne frega un cazzo si è fatto abbindolare da quel pochissimo potere che ha avuto purtroppo sì in primis voglio chiedere scusa a tutta la chat vabbè pure con voi però dobbiamo dire una cosa fatta che siamo stati tutti e quattro dei depensanti non solo io tutti siamo stati depensanti anche una volta pure voi non potete dire che non avete fatto cavolo no fammi capire una cosa perché siamo stati depensanti in cosa abbiamo spogliato nel senso perché allora a parte che avete visto quel video però non sapendo effettivamente per quel motivo mi ero incazzato poi ci ho fatto il video però non puoi prendermi in giro no in che senso non posso prendermi in giro noi abbiamo parlato di due varie sfuriate in vari video non era soltanto la live degli editor eccetera abbiamo fatto vedere in tante live delle clip dove tu dici delle cose allucinanti ci sono più live dove tu insulti sei libero di fare quello che vuoi ovviamente però visto che comunque sei una figura ma ora sono migliorato no aspetta però fammi parlare fatemi parlare un attimo scusate visto che sei una figura che comunque è divenuta nota grazie al Cerbero Universe no questo lo possiamo dire abbiamo anche una certa responsabilità e mi mandano costantemente clip di te che insulti che dici cose gravi tipo ti cago in bocca cose così e lo fai in vari live abbiamo detto video date una regolata fine cioè e tu hai detto sono migliorato adesso beh grazie a quello che abbiamo detto noi allora quindi perché abbiamo dipensato posso dire che da un mese sotto è stata cosa però fino a qualche mese fa non ero così io ero diventato così per coppa di altre persone ma non sono così H24 nel senso o se no che so anche mese e femmine in privato sarebbe così come si comporta il cebbi invece no nel senso spero la gente capisca che quello era un momento di incazzatura può capitare che ok molte persone reagiscono in maniera molto molto ma molto diversa io invece reagisco in questa maniera che ho detto e da un bel po' che non sto dicendo brutte cose ai miei haters una cosa gentilmente chat smettete di dire Vito out perché sei invidioso che io sto qua e tu stai ancora in chat ok no scusate Don Vito questi sono gli ma lei non ha imparato un cazzo Don Vito lei è una capra comunque posso dire che lei è un caprone Don Vito cioè noi qua stiamo parlando di determinati atteggiamenti e lei li fa verso delle persone ma stava a fare il discorso per capire i propri vado a scurrile lei dice Vito out dai vabbè lei non deve ostentare non deve ostentare un cazzo lei perché non è nessuno quanto noi non riuscivo guarda che spam di Vito out è perché questo spam di Vito out è testimone esatto cioè fa capire quanto lei non capisca come si sta il web esattamente bravo ti servirebbe no no ma si può imparare ti servirebbero dei consigli da chi magari ne capisce più hai imparato una lezione se fai un'uscita del genere ottieni ciò che non vuoi l'opposto di quello che vuoi no abbiamo visto dei video abbiamo visto in reaction per la prima volta abbiamo tratto delle conclusioni tu hai risposto secondo me in maniera abbastanza scomposta fine stavo incazzato cosa posso fare però come hai detto visto che hai riconosciuto gli errori perché dovresti essere incazzato se avevamo ragione a sottolineare il giorno ero incazzato allora è un altro conto allora ok però sentirci delle cose sinceramente mi è sembrato brutto vabbè ho chiesto pure scusa ma non è che devi chiedere scusa a me a me che me frega vabbè scusa anche alla chat ma si per carità però puoi chiedere scusa a chi vuoi ma se tu fai le scuse e poi da domani ricominci a fare delle due cazzarine noi può essere anche che ci sentiamo un po' presi per il culo volevo dire che sono molto contento spero che sia tutto risolto anche per la chat abbiamo messo il bolino giallo per evitare insulti e tutto perché comunque ti vogliamo bene ciò ovviamente non rimuoverà il tuo ban sul nostro canale che rimane permanente per il momento minimo per 4-5 mesi dobbiamo vedere come ti comporti vabbè guarda che è il prossimo no Don Vito lei sia a dimostrazione sia a noi che a Twitch che lei è un buon streamer ne riparliamo quando si sarà comportato in modo egregio grazie al Cebro per avermi come posso dire ciao Don Vito ciao Vito ciao Vito poi chissà se per caso un giorno volete fare una live serie e parliamo di anime e videogiochi e possiamo che so nel senso va bene va bene grazie mille ciao Vito ciao Vito